Investire con i mercati ai massimi ha senso? Oppure meglio se aspettiamo un po' che crolli tutto così possiamo investire a sconto e quindi avere più quote degli stessi ETF o delle stesse azioni? Prima di rispondere a questa domanda però ne faccio io una a voi. Voi state investendo oppure state scommettendo? Benvenuti a tutti in questo nuovo video, io sono Lorenzo e oggi come avrete già letto dal titolo parleremo di una questione che mi viene richiesta moltissime volte nei messaggi o anche nei commenti, ossia investire adesso che i mercati sono al massimo. Ha senso oppure meglio appunto aspettare e comprare quando i prezzi saranno più bassi? Oggi con un supporto di dati andremo a rispondere a questa domanda. Però tornando alla mia domanda di prima mi chiedevo voi state scommettendo oppure state investendo i vostri soldi? Infatti se state scommettendo ci può stare aspettare perché fare una scommessa alla fine è una cosa che ha una probabilità del 50% nella maggior parte dei casi, poi a volte è un po' più bassa, un po' più alta come quando si scommettono i gol delle partite o le vittorie delle squadre, o ci avviciniamo al 50% quando giochiamo alla roulette e scommettiamo che sia il nero o il rosso. Ovviamente noi stiamo parlando di investimenti quindi di scommesse ce ne dobbiamo dimenticare. Stiamo investendo i soldi per il nostro futuro per far sì che fruttino, che ci danno dei rendimenti e che ci permettano appunto in futuro di avere una disponibilità maggiore per permetterci cose, oggetti, servizi che oggi non possiamo permetterci e in futuro vorremmo poterci appunto permettere. Bene tutto questo per dire che semplicemente decidere di aspettare e quindi sperare che il mercato crolli è una vera e propria scommessa in quanto noi non possiamo prevedere cosa faranno i mercati. E se io decido oggi di fare un pack, quindi un piano di accumulo e decido di investire 200 euro al mese, mentre in realtà adesso ne avrei 2000 e li posso investire in questo esatto momento, aspetto e quindi investo un po' alla volta. Però cosa succede? Che se io investo 200 euro una volta al mese per i prossimi 10 mesi e il mercato continua a salire, io andrò ad acquistare sempre meno quote degli ETF che voglio e quindi alla fine del mio percorso avrò si investito tutti i miei soldi, però potevo fare di meglio. Quindi investire in un certo momento tutto quello che avevo e avere per esempio 200 quote di un ETF al posto di investire un po' alla volta e alla fine arrivare ad averne, non lo so, 190, 180. E quindi alla fine se abbiamo investito con la cosiddetta lump sum, ossia il versamento singolo, quest'oggi avremo un capitale più alto di quello che avremo nel caso del pack. Ovviamente mi starete già dicendo, beh ma se io faccio il pack il mercato può anche scendere ed è una cosa che storicamente accade ed è una cosa naturale e quindi con il pack si media il prezzo al ribasso, andando poi alla fine del periodo di investimento avere un valore più alto rispetto al peak, quindi il lump sum che dicevamo prima. Abbiamo quindi visto che esistono praticamente due modalità di investimento e le cose in realtà possono andare in due modi, ossia il mercato sale e il mercato scende. A livello storico però il mercato abbiamo visto che sale quasi sempre, questo perché per fortuna l'economia tende a svilupparsi, aumentano i ricavi delle aziende, aumentano i posti di lavoro, poi vabbè questi vari, non è che aumentano sempre, però comunque la tecnologia si sviluppa, adesso abbiamo l'intelligenza artificiale, prima abbiamo avuto l'era internet, quindi ci sono sempre delle nuove invenzioni che portano ad una crescita anche di quello che è il PIL, di quella che è la ricchezza della popolazione e così via. E quindi c'è sempre una progressione continua e questo porta le aziende a crescere e ad aumentare anche quello che è il valore delle loro azioni. Quindi si stima che nel futuro, magari non tra un anno, ma comunque tra 10, 20, 30 anni, le azioni staranno sempre salendo. Infatti è provato che oltre 20 anni chi investe nel mercato azionario ha la probabilità dello 0% di perdere soldi, quindi al 100% si guadagna. Naturalmente poi può succedere qualsiasi cosa, però a livello storico e di dati questo è il risultato. Quindi questo è per dirvi che se noi siamo degli investitori e noi vogliamo investire nel lungo periodo, non dovremo pensare molto a cosa fare, ma dovremo investire a prescindere dal momento, perché anche a livello storico, come vi dicevo, ma a livello proprio matematico, è stato provato che l'investimento con una cifra singola in un giorno preciso, quindi se io avessi 2.000 euro l'investo oggi, è provato matematicamente che renderanno di più di una persona che ha 200 euro al mese da investire per i prossimi 10 mesi. Naturalmente stiamo parlando di un caso isolato, ossia il caso in cui una persona può scegliere se investe 2.000 euro oggi oppure se fare un pack. È invece più normale una situazione in cui si riceve lo stipendio mensilmente, e quindi noi abbiamo un'unica opzione, quindi investire 200 euro al mese, perché è quello che riusciamo a risparmiare dal nostro stipendio e investire sui mercati. In questo caso non c'è neanche bisogno di pensarci, è l'unica opportunità che abbiamo per investire e quindi è la migliore. Però il mio ragionamento appunto nasce dal fatto che una persona ha la possibilità di scegliere, quindi c'è un capitale di partenza, io prima facevo l'esempio di 2.000 euro, e c'è la possibilità di scegliere se investirli subito oppure no. E come abbiamo visto, investire oggi ci darà più rendimenti che andare a scaglionare il nostro investimento. E prima il fattore delle scommesse l'avevo citato per il semplice motivo che se noi abbiamo 2.000 euro oggi e scegliamo di fare un pack, noi stiamo effettivamente scommettendo contro il mercato, stiamo quindi scommettendo che il mercato crolli da quei prossimi mesi e noi quindi aspettiamo per investire. Ci sono addirittura alcune persone che hanno 2.000 euro e ne fanno il pack, ne investono, aspettano che il mercato crolli. Io ho letto vari commenti sui forum di gente che diceva io sto aspettando da un anno di investire 10.000 euro però il mercato non è ancora sceso. Certo il mercato non è ancora sceso però nel frattempo hai anche perso quasi il 20% del tuo capitale perché i mercati più o meno quest'anno sono saliti del 18-20%, poi dipende se andiamo a vedere Stati Uniti oppure Europa e così via. Comunque i rendimenti sono stati a doppia cifra e quindi chi ha tenuto fermi i soldi si è mangiato una buona parte del capitale. Su 10.000 euro che non abbiamo investito ne abbiamo persi 2.000 tecnicamente. E non è detto che da qui in poi i mercati continuino ancora a salire come hanno fatto nell'ultimo periodo. È un'altra evidenza scientifica il fatto che i mercati passino più tempo sui massimi che appunto sui minimi. Infatti il mercato passa la maggior parte del tempo ad andare a toccare nuovi massimi. In particolare negli ultimi anni o in quest'ultimo anno l'S&P 500 ne ha fatti penso già una cinquantina e ogni giorno va a toccare un nuovo massimo perché è appunto una cosa fisiologica che succede nel momento in cui il mercato sta salendo. Io ho qui davanti un'analisi dell'S&P 500 e dice che su 1176 mesi trascorsi dal 1926 ad oggi in particolare da gennaio a gennaio l'S&P 500 è stato ai massimi per il 30% delle volte. Poi ne abbiamo un altro che parla delle perdite che avvengono successivamente al mercato che tocca un nuovo massimo. In particolare nell'arco di un anno c'è il 9% di probabilità che il mercato scenda mentre il 91% di probabilità che il mercato continua a salire. A 3 anni invece la probabilità che il mercato continua a salire si alza al 98% e a 5 anni si alza al 100%. Quindi se il mercato tocca i massimi è più probabile che vada avanti a stare sui massimi. Solitamente infatti questo va a generare euforia, la gente continua a investire ed è solo un evento imprevisto un cosiddetto cigno nero che può andare a far modificare l'andamento di mercato altrimenti i mercati da un momento all'altro è molto difficile che scendono se non succede appunto uno shock. Tornando ad analizzare i dati dal 1926 ad oggi risulta che un investimento continuo quindi aver investito all'inizio e aver mantenuto il capitale fino ad oggi avrebbe portato un rendimento medio del 7,1% mentre chi tentava di uscire dal mercato magari quando il mercato saliva e rientrare quando questo scendeva ha portato un rendimento del solo 4,7%. Quindi cercare di fare market timing porta agli investitori a perdere oltre due punti e mezzo percentuali oltre al fatto che porta molto più stress perché uno deve scegliere quando entrare e mi chiedo entro oggi, entro domani, non entro, sto un mese fermo porta un lavoro sicuramente più ampio allo stesso tempo di rendimenti inferiori. Il guadagno è infatti maggiore stando fermi facendo un investimento passivo che è anche la cosa più semplice. Quindi se vi state trovando a scegliere se investire una cifra quest'oggi oppure investirla scaglionata nei prossimi mesi avendone appunto la disponibilità già da oggi in ogni caso è come se stesse facendo una scommessa perché se voi non volete investire oggi dicendo che secondo me il mercato crolla e investite a rate tra virgolette con un pack state appunto scommettendo su un crollo dei mercati mentre se investite tutto oggi in realtà non è che state scommettendo sul mercato che sale state seguendo quello che è il trend che c'è da sempre ossia di una salita dell'economia, una crescita dell'economia e di conseguenza una salita dei mercati. Io ovviamente non posso prevedere il futuro e non so se domani il mercato crolla oppure no però vi dico personalmente che ho avuto delle cifre da investire lungo quest'anno mi sono riuscito a risparmiare e ho deciso di investirle subito nonostante vedevo che il mio portafoglio fosse ai massimi e in realtà ero un po' reticente nel farlo perché ovviamente come tutti ho pensato ma ha senso investire ai massimi se poi domani potrebbe scendere tutto? in realtà può succedere, può sempre succedere perché gli shock e i cini neri si chiamano tali perché non li possiamo prevedere in alcuna maniera quindi se domani mi crolla un grattacielo, c'è un nuovo covid o che ne so io non posso saperlo e mi metto appunto l'anima in pace di cui ho questi soldi li investo oggi in modo che iniziano già a generarmi del rendimento da oggi e non voglio aspettare. Fino a questo momento le cose stanno andando bene ho fatto gli ultimi investimenti in realtà a inizio del mese di maggio e fortunatamente il mercato ha continuato a salire anche se in realtà siamo un pochino in stallo nell'ultimo mese infatti i massimi sono stati toccati all'incirca una o due settimane fa e adesso siamo leggermente sotto però parliamo nemmeno di 1.2% quindi siamo sempre lì e penso che ci sia ancora la possibilità di vedere un mercato che cresca in particolare perché ci si aspetta che vengano tagliati i tassi e che quindi questo porti ancora una crescita più elevata dell'economia quindi naturalmente le mie sono solo supposizioni anche se in realtà sono le supposizioni che trovate più o meno ovunque su internet e non sto assolutamente dicendo che prevedo quello che è l'andamento dei mercati perché appunto come ho finito di dirvi poco fa anch'io sono stato molto dubbioso sull'investire i miei risparmi o se fare un classico pack ho deciso di investire subito semplicemente basandomi su quella che è la matematica e su quello che è il risultato statistico più evidente ossia il fatto che se si investe una cifra tutta in un istante nel lunghissimo periodo renderà sempre di più rispetto a un pack poi ovviamente ci sono dei periodi in cui se avete investito con un pack ad esempio nel 2008 quando il mercato crollava avete guadagnato di più di uno che ha fatto il pic il giorno prima che fallisse le Man Brothers quindi ci sono anche questi casi noi non possiamo prevederli però nel complesso io l'unica cosa che posso fare è basarmi sulla matematica e sulla statistica e queste ci dicono che investire in un singolo momento nel lunghissimo periodo ci porterà a un rendimento maggiore quindi anche se investissi oggi e per i prossimi mesi il mercato scende rimango fermo, non tolgo niente anche perché appunto tornando al concetto di market timing quello che conta è il time in the market e non il timing the market quindi significa conta il tempo nel mercato e non fare dentro e fuori dal mercato alla fine chi guadagna di più è chi sta dentro e non tocca più niente anche questo è un risultato statistico quindi io mi baso su questi che sono i dati effettivi concreti che abbiamo e spero che possano ripetersi però come vi dicevo non c'è alcuna certezza fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate se anche voi siete d'accordo con questo mio ragionamento o se quando vedete i mercati massimi preferite fare un pack non investire eccetera e se appunto vi sta portando dei buoni rendimenti io per ora come vi dicevo ho rispettato quello che è il mio pensiero quindi investire e non toccare più nulla e per ora sto ottenendo degli ottimi rendimenti come vi avevo mostrato pochi mesi fa il mio portafoglio è in guadagno di oltre il 10% in questo momento ve lo dico in via confidenziale che sono in guadagno del 16% su tutto quello che è il mio portafoglio quindi davvero un ottimo risultato e ovviamente poi vi porterò anche degli aggiornamenti su quello che è il mio portafoglio nei prossimi mesi e nei prossimi anni detto questo spero che il video vi sia piaciuto che vi sia stato d'aiuto in tal caso vi invito a lasciare un mi piace e anche ad iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti vi invito a lasciare un commento con il vostro parere e nulla noi ci vediamo al prossimo video state in bene